Mezzi spazzaneve e personale del Comune in azione per pulire le strade innevate sin dalla notte all'Aquila e piano neve comunale operativo. Eppure la prima nevicata della stagione in anticipo rispetto agli altri anni ha mandato in tilt il traffico nelle prime ore del mattino all'apertura di uffici e scuole, con tempi di percorrenza di oltre 1 ora e 20 da un lato all'alto della periferia. A complicare la situazione della viabilità in città è stata la decisione del Comune dell'Aquila di non chiudere le scuole con autobus e macchine che si sono riversate sulle strade provinciali e comunali, imbottigliandosi in prossimità delle rotonde. Disaggi dovuti più che alto ai timori degli automobilisti, qualcuno sprovvisto di gomme termiche, più che arreali criticità dovute alla neve perché le strade sono rimaste comunque abbastanza pulite. Neve anche nei paesi del circondario, torno in parte Lucoli e sull'altopiano delle Rocche e l'Alto Aterno, nella Valle Peligna, primo assaggio di un inverno che si preannuncia freddo e lungo per la gioia degli sciatori che potranno davvero godersi le piste sciistiche di tutto l'Aquilano. Impianti aperti ad esempio da sabato 15 dicembre a Campo Imperatore, ad annunciarlo è l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli. Intanto temperature polare all'Aremonia e a Roccaraso dove la colonnina di Mercurio questa notte è scesa a meno 25 gradi sotto lo zero.